Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al webinar di questa sera nel quale presenteremo il corso in collaborazione con Delta Trading Lab sui bias, quindi sui pattern temporali. Vedo già che ci sono tante persone in live collegate, magari quello che vi chiedo è di darmi un feedback innanzitutto se mi sentite, se mi vedete correttamente, magari utilizzate la chat, ci prendiamo ancora un minutino prima di partire con la diretta per aspettare le ultime persone che si collegheranno. Ok, perfetto, intanto saluto Pasquale, saluto Massimo che cortesemente ci dà anche un feedback, quindi audio e video ok. Bene, mi fa piacere che siete davvero in tanti collegati, quindi ecco magari iniziamo a conoscerci, magari non so se alcuni di voi già avranno avranno visitato il mio sito, quindi diciamo ecco un pochino conoscono la mia operatività, ma magari ecco quello che più mi interessava capire, magari ecco anche per capire la composizione diciamo ecco della platea, se effettivamente diciamo quanti di voi fanno già trading, quindi siete già operativi in real e quanti invece magari stanno ancora approcciando al trading, quindi magari ecco sono in una prima fase di studio ecco e non sono ancora passati all'operatività live, anche un attimino per rendermi conto insomma della composizione dei attendis. ok, quindi Luca ad esempio ci scrive che lo salutiamo che già opera in reale, Dejan già in reale, presumo da quattro anni, Massimo addirittura fa trading dal 1999 e seguiva la borsa sul televideo, beh i tempi, chissà se il televideo esiste ancora o se è stato definitivamente messo offline, però certo certo, beh all'inizio in quegli anni lì era l'unico modo diciamo e faremo anche stasera un richiamo al 1999, lo faremo, lo faremo un richiamo a quell'anno lì, ok anche Giuseppe è operativo da due anni, ah Massimo ci dice esiste ancora, esiste ancora, ottimo, ottimo, ok. Bene, perfetto, io direi visto che sono già le 18.05 quindi direi di partire con il webinar di questa sera, innanzitutto grazie a tutti coloro che si sono collegati. Il webinar di questa sera, come dicevo in apertura, nasce appunto per andare a presentare un corso che faremo insieme a Delta Trading Lab, è un corso dove sostanzialmente andremo a descrivere un tipo particolare se vogliamo di operatività, anche se poi nel corso degli ultimi anni è un qualcosa che comunque si sta prendendo sempre maggiormente piede, ovvero l'operatività attraverso i bias, quindi pattern di tipo temporale. Quindi questa sera vedremo un pochino, faremo una piccola introduzione di quello che sarà il corso, quindi anche di quelli che soprattutto saranno i temi toccati e quindi diciamo ecco faremo un po' una panoramica all'interno insomma di questo mondo. Magari ecco anche qui vi chiedo di utilizzare la chat per tutte quante le domande e quesiti eventuali che vi vengono in mente e anche soprattutto se avete mai lavorato con i bias, quindi se conoscete diciamo ecco quelli che sono magari i principali tipi di bias, su quali strumenti magari ecco li avete e se li avete individuati e se sì su quali strumenti, insomma ecco ogni feedback è sempre bene accetto poi ecco ripeto se avete qualsiasi tipo di domanda insomma tranquillamente potete utilizzare la chat. Allora innanzitutto io comincio con il leggervi il disclaimer che dobbiamo sempre appunto leggere per dire che le informazioni fornite e l'opinione espressa nel corso di questo seminario hanno scopo esclusivamente di carattere generale e non quello di prestare consigli operativi in acquisto o vendita quindi nessuna opinione espressa riguardante investimenti e strategie di investimenti può considerarsi in merito adeguata alle caratteristiche di una specifica persona e alla sua conoscenza ed esperienza del trading online. Le informazioni riguardanti le performance passate non costituiscono garanzia di performance futura, i future CFD e Forex sono prodotti che utilizzano l'effetto leva quindi prima di operare con del denaro reale assicuratevi sempre di aver compreso tutti i rischi. Io mi presento per tutti quelli che non mi conoscono, io sono un ingegnere di formazione, sono socio professional di SIAT che è la società di analisi tecnica, opero dal 2010 come trader indipendente e nello specifico la mia operatività è focalizzata sull'ideazione, implementazione e costruzione di strategie automatiche. Tutte le strategie le trovate sul mio sito che è www.tradingfacile.eu qui trovate tutti i sistemi ma anche tanto materiale gratuito come ad esempio il blog dove pubblico quotidianamente la mia view sui principali asset. Ci sono poi tante guide gratuite inerenti sia al mondo del trading in generale e anche al mondo del trading automatico. Trovate anche tutti i link per iscrivervi ai webinar che mensilmente tengo. Quasi tutti questi eventi sono gratuiti, quindi previa registrazione ma potete partecipare senza alcun costo. Poi per prezioni di informazione inerente ai nostri servizi si la mail di riferimento è info-tradingfacile.net. Quello che magari ecco vi invito a fare se vi va appunto di seguirci sui canali social, di iscrivervi al canale YouTube, pagina Facebook e canale Telegram per seguire appunto tutti i nostri aggiornamenti in tempo reale. I link chiaramente come sempre li trovate sul sito. Allora Massimo ad esempio ci dice che nonostante la lunga operatività non conosce questa tecnica. Saluto anche Alessandro, magari ecco anche altri, insomma avete altri feedback inerenti all'operatività con i bias, fatemelo sapere se insomma ecco ne avete mai sentito parlare avete avuto esperienza con questo tipo di operatività. Per quanto riguarda il corso, come dicevo è un corso organizzato da Delta Trading Lab, quindi tutte quante o meglio più informazioni le trovate sul sito www.deltatradinglab.com, nello specifico cliccando poi sulla pagina del corso appunto del corso di trading con i pattern temporali trovate appunto la descrizione e anche appunto il programma del corso. Detto questo, quindi questa sera vedremo un pochino, un attimino che cos'è un bias e perché è importante conoscere appunto questo tipo di caratteristica molto importante e poi chiaramente vedremo quello che è lo schema del corso e come dicevo prima ci sarà spazio per domande che chiaramente vi invito a fare in chat. Quindi innanzitutto cosa intendiamo quando parliamo di bias? Quando parliamo di bias intendiamo una sorta appunto di distorsione, ok? Come dice appunto il significato della parola stessa. Quindi che cosa significa distorsione? Distorsione significa che quando andiamo a cercare di individuare un bias o anche chiamata inefficienza su un determinato strumento cerchiamo di capire se il comportamento di un determinato strumento è casuale, sia indeterminato e questo lo facciamo diciamo su diverse scale temporali, oppure se in un qualche modo questo strumento presenta delle distorsioni, ok? E quindi diciamo ecco quello che vogliamo cercare di capire se ci sono dei pattern, ok? Ripetitivi su un dato strumento, tale che ad esempio rendono o meglio spostano le probabilità magari o in un dato orario o in un dato giorno della settimana spostano appunto le probabilità di osservare ad esempio un trend al rialzo oppure al ribasso, ok? Quindi lo studio dei bias e quindi lo studio di queste distorsioni, di queste inefficienze nel corso degli anni chiaramente ha raggiunto e ha avuto un peso sempre maggiore soprattutto per via dello sviluppo informatico, ok? Perché? Perché sostanzialmente, per quello che dicevo prima che il 1999 è un anno molto importante per lo meno per me perché è stato l'anno nel quale Larry Williams ha editato il suo famosissimo libro I segreti del trading di breve termine. Quello è stato a mio avviso un testo spartiacque perché appunto lì per la prima volta, Larry Williams penso che lo conosciate tutti, un trader famosissimo di fatto ha iniziato a introdurre l'argomento diciamo ecco bias ovvero l'argomento legato al fatto che sostanzialmente il mercato non ha un andamento casuale quindi è stato lui uno dei primi a cercare di capire e di individuare se un determinato mercato ad esempio il lunedì o il martedì ha la maggior probabilità di registrare delle chiusure al rialzo oppure al ribasso quindi per quello dico che a mio avviso, o meglio, per me sicuramente questo è stato un testo molto importante perché è da lì che io ho cominciato il mio studio su questa, chiamiamola pure specifica branca appunto del trading io chiaramente, e ci tengo a sottolinearlo, come socio di SIAT ritengo insomma che lo studio dell'analisi tecnica abbia ancora oggi una forte valenza appunto nell'individuare o nel predire quello che è il prossimo movimento di mercato su un determinato asset tuttavia specie se magari ecco il nostro orizzonte di trading non è un orizzonte di lungo termine quindi non è un orizzonte diciamo ecco da più che da trader da investitore quindi magari con un orizzonte di sei mesi e un anno ma il nostro obiettivo diciamo ecco nel fare trading è cercare di individuare dei movimenti su scala temporale ridotta allora lo studio dei bias e il riuscire ad individuare appunto queste inefficienze che ogni giorno si manifestano sui mercati sicuramente ci dà un grosso vantaggio operativo quindi nello specifico di che cosa stiamo parlando questo ad esempio, quello che vi faccio vedere ora è una simulazione eseguita sul mercato del gold quindi sul mercato dell'oro sostanzialmente questa non è neanche si penso si possa definire una strategia di trading questa è semplicemente una strategia che ogni venerdì quindi tutti i venerdì diciamo ecco qui l'orizzonte temporale lo vedete nel 2008 gennaio 2008 giugno 2023 sostanzialmente è una strategia che è andata ad aprire una posizione long sul gold all'inizio di ogni venerdì ok? e tale posizione long è stata poi chiusa il lunedì in apertura ok? quindi qui non c'è nessun tipo di pattern non c'è nessun discorso legato alla volatilità ad esempio o alla posizione del prezzo al di sopra o al di sotto di una media mobile tanto per citare magari alcuni dei pattern diciamo più basilari questa è semplicemente una strategia che si basa sullo sfruttamento di un bias un bias molto forte che vige sul mercato del gold con una certa diciamo ecco stabilità perché come detto insomma sono tanti anni che il mercato mostra evidenza di avere questa caratteristica quindi questo per dire che cosa? che se l'annamento dei mercati fosse casuale allora acquistando il mercato del gold ogni venerdì tipicamente dovremmo avere un equity line che grosso modo non porta a nulla dovrebbe essere un equity line caratterizzata da fasi diciamo ecco ascendenti alternate ad altre fasi discendenti ma siccome i mercati non chiaramente solo il gold ma diversi mercati presentano delle distorsioni quindi dei bias sostanzialmente diciamo ecco l'andamento del mercato non è casuale e quindi acquistando o vendendo il mercato in determinati giorni o orari della settimana di fatto diciamo ecco anche solamente agendo sul criterio temporale si spostano le probabilità di ottenere dei gain piuttosto che diciamo ecco di vedere delle posizioni chiuse in perdita quindi questo vi fa capire appunto la potenza di questi pattern perché ripeto io qui non ho lo vedete qui neanche inserito dei livelli di stop loss take profit nulla di nulla semplicemente qui ogni venerdì il sistema ha aperto una posizione long per andare poi a chiuderla il lunedì alla prima barra appunto al primo tick di apertura del mercato e quindi questo vi dice appunto come il venerdì sia una giornata dove statisticamente il mercato del gold non ha 50 e 50 in termini di probabilità di chiudere no la sessione in rialzo in ribasso ma è una sessione questo lo vedete diciamo ecco graficato in un altro modo perché questo è il movimento statistico medio ok fatto dal mercato dal 2008 2023 barre 15 minuti quindi questo vi mostra la tendenza media del mercato in tutti i giorni in tutte le ore della settimana incluso vedete il venerdì dove appunto andando a considerare quella che è la media ok di tutti i venerdì appunto sul gold ci restituisce appunto un mercato una tendenza ben chiara ben definita appunto che vede il venerdì essere statisticamente una giornata a forte valenza rialzista tra l'altro l'abbiamo visto anche venerdì scorso dove il gold ha fatto un forte break di volatilità diciamo è corrompendo anche dei livelli importanti allora già abbiamo qualche domanda allora Massimo ci chiede quando compri il venerdì in apertura esatto poi diciamo ecco potremmo andare anche a chiaramente a disquisire se c'è magari ecco un orario migliore di altri ma questo è proprio una strategia diciamo ecco che compra ogni venerdì in apertura il mercato e va a chiudere la posizione sostanzialmente il lunedì in apertura quindi la posizione viene lasciata overnight in questo caso viene lasciata aperta nel weekend e viene poi chiusa a lunedì al primo al primo tick che il mercato fa e questo perché per sfruttare appieno anche quelle che sono diciamo ecco poi anche i movimenti statisticamente collegati ai buy, a bias di questo tipo a cosa mi riferisco nello specifico? mi riferisco al fatto che molto spesso quando il mercato tende a fare appunto questi movimenti nella giornata di venerdì che è l'ultima appunto sessione della settimana perché andiamo a mantenere la posizione nel weekend e la chiudiamo soltanto a lunedì perché molto spesso il mercato oltre diciamo ecco alla close fortemente diciamo ecco sbilanciata in questo caso lato long ma ci porta un ulteriore gain dettata dalla possibile diciamo ecco o meglio probabile anche apertura in gap up a lunedì ok? quindi diciamo ecco il fatto di avere un forte sbilanciamento nella giornata del venerdì molto spesso produce anche un'apertura diciamo ecco al di sopra di quello che era un'apertura del lunedì al di sopra di quello che era la close del venerdì e quindi diciamo ecco portando la posizione in overnight sfruttiamo anche questo come dire extra boost dettato dall'apertura in gap del lunedì lunedì dove invece il mercato vedete presenta diciamo una tendenza opposta perché perché anche qui logica conseguenza quando il mercato va ad aprire in gap a lunedì magari ecco dopo un venerdì forte la tendenza prevalente è quella in qualche modo di andare a riassorbire ok? questo eccesso che si è creato al venerdì e quindi analogamente così come diciamo quel venerdì si assiste a delle a delle tendenze diciamo ecco fortemente rialziste molto spesso il lunedì è la giornata del riassorbimento ok? di questa di questa tendenza quindi insomma capite anche le le implicazioni di di questo tipo di nell'andare ad individuare questo tipo di di bias e questo tipo di inefficienze e la cosa diciamo ecco che poi forse il potere diciamo ecco più grande del conoscere diciamo ecco le principali distorsioni che caratterizzano tutti i mercati è che questi bias possono essere diciamo ecco come dire messi diciamo e applicati e si integrano con tutte quante quelle che sono magari le vostre strategie di trading quindi strategie magari che già utilizzate strategie che sono basate diciamo ecco non so sull'individuazione di barre benchmark o sulla rottura di livelli importanti cioè non è che qui per inciso io vi ho fatto vedere una strategia diciamo ecco molto semplice per farvi capire che che comunque l'andamento dei mercati non è casuale quindi diciamo ecco non possiamo aspettarci diciamo ogni per ogni giorno della settimana sui diversi mercati di avere le stesse probabilità che una sessione chiude in positivo o in negativo perché queste tendenze ci sono alcune di esse sono ben chiare e insomma anche come dire persistenti da da tanti anni a questa parte poi è chiaro che io nelle mie strategie di trading non vado a comprare un determinato mercato soltanto perché diciamo ecco vige un determinato bias però posso andare a costruire intorno a questo bias e questo chiaramente lo vedremo durante il corso posso andare a costruire intorno a questo bias una determinata strategia ok che magari ecco sfrutta appieno ok quelle che sono le appunto le distorsioni vigenti sui principali mercati quindi i bias in sé ripeto possono anche essere applicati diciamo ecco in maniera singola nel senso però tipicamente quello che si fa è integrare questi bias all'interno appunto di strategie di trading magari ecco un filo più complesse dove comunque c'è magari il completamento di una figura tecnica oppure non so c'è un segnale dettato da un particolare indicatore e quindi la potenza appunto ripeto di questi di questo tipo di segnali è che voi li potete integrare all'interno di tutte quante le le vostre strategie di trading e quindi sia magari non so faccio un esempio o non so aumentando la vostra size di esposizione in quelle giornate o in quelle fasce temporali poi a seconda delle caratteristiche della strategia dove la statistica vi dice che sono maggiori le probabilità appunto di assistere a dei movimenti a rialzo o a ribasso fino anche a escludere magari se io non so ho una strategia che lavora in breakout soltanto in acquisto io magari posso andare su quello specifico strumento che sto tradando a vedere quali sono le giornate statisticamente più favorevoli per assistere a dei movimenti a rialzo e magari posso andare ad escludere quelle invece dal mio setup escludere quelle giornate dove ad esempio invece il mercato non ha un'alta probabilità di chiudere la sessione in positivo ok massimo ci dice quindi la migliore strategia sarebbe comprare un contratto il venerdì mattina e venderne due il lunedì beh potrebbe potrebbe essere potrebbe in linea di principio sì ma poi come ho detto raramente si lavora solo sul bias ma personalmente io cerco comunque una conferma anche dal punto di vista tecnico quindi una conferma dal punto di vista tecnico potrebbe essere comunque un segnale oggettivo dal grafico quindi o la rottura di un massimo della giornata precedente o analogamente diciamo ecco la rottura di un minimo per quanto riguarda il lunedì oppure un segnale diciamo ecco dettato da un indicatore che sappiamo avere comprovata valenza tecnica su quel time frame su quell'asset comunque ripeto raramente si acquista o si vende un mercato solo sulla base appunto del bias però è importante conoscerli proprio perché appunto questi questo tipo di di segnali si integrano con tutte quante le le strategie quindi ad esempio questo è un esempio che abbiamo visto sul gold questo intanto per ricondurmi a quello che dicevo prima è una tecnica comunque di trading relativamente recente se comunque parliamo di un qualcosa che affonda le sue radici oltre 20 anni fa però chiaramente è figlia anche dell'avvento dei pc è figlia chiaramente dell'avvento di piattaforme che oggi sono accessibili anche ai trader retail che permettono anche al piccolo investitore privato nel quale appunto all'interno del quale mi colloco anch'io come voi che però insomma ecco permettono di avere accesso a questi strumenti e quindi di avere a disposizione comunque un database per poter fare appunto questi studi che sicuramente anche solo fosse dieci anni fa non erano disponibili e quindi ecco è un approccio comunque recente che però insomma ecco ancora magari sicuramente è maggiormente diffuso all'interno di chi fa trading come me in maniera sistematica quindi con un approccio diciamo automatico ma nulla vieta e questo anche qui lo dico per inciso nulla vieta anzi anche qui un altro un altro fattore da considerare nel trading con i bias è che queste logiche si applicano anche a chi opera indiscrezionale ok quindi anche a chi opera diciamo ecco perlomeno non su orizzonti temporali lunghissimi chiaro che se io parlo insomma ecco di un po' meglio sono focalizzato su un trading a due mesi un mese eccetera allora diciamo ecco l'impatto di questi bias perché nel corso parleremo sostanzialmente per lo più di bias settimanali quindi inefficienze che si sviluppano nell'arco appunto della settimana o anche di bias che si sviluppano in determinate fasce orarie è chiaro che l'individuazione appunto di queste distorsioni avvantaggia chi è focalizzato su un trading comunque di breve termine ok ad esempio qui vi faccio vedere un un'altra un'altra slide non so quanti di voi ad esempio fanno trading sul forex forex è un po' diciamo ecco quel quel mercato diciamo ecco forse il più accessibile perché con i microlotti vi permette veramente di operare con con dei delle sites ridottissime quindi forse diciamo ecco è quello il forex è come dire lo strumento diciamo dove magari ecco molti di voi hanno mosso i primi passi magari ecco anche qui datemi qualche conferma in chat no questo per dire soltanto ecco che io sfido no chiedo scusa qui ho scritto gold ma in realtà non è gold è un refuso perché qui è euro usd euro dollaro questo è il mercato di riferimento grazie Dejan questo per dire che sicuramente tanti di voi hanno tradato almeno una volta l'euro dollaro ma non so quanti di voi conoscano ad esempio uno dei dei bias più importanti che a livello intraday vige su questo mercato ovvero questa tendenza marcatamente ribassista che il mercato mette in atto durante l'apertura appunto e lo sviluppo della della sessione europea qui ad esempio Massimo ci dice che il forex è un mercato molto difficile ed effettivamente diciamo nessuno credo che possa dire il contrario però anche qui a maggior ragione proprio perché è un mercato difficile è un mercato che molto spesso è caratterizzato da una da una volatilità veramente veramente ridotta come quella che abbiamo visto ad esempio nel corso del 2018 2019 dove abbiamo avuto degli anni dove era veramente difficile diciamo ecco riuscire a muovere il mercato e quindi a tirar via grattar via pip perché è un mercato che io mi ricordo era arrivato a fare anche roba di 50 pip in termini di escursione tra massimo e minimo a settimana roba che fino a qualche anno prima li vedevamo in metà sessione un movimento di 50 pip quindi questo per dire che sicuramente è un mercato difficile a maggior ragione se non si conoscono se non si conosce quella che la quelle che sono le caratteristiche ok di questo mercato perché ad esempio il mercato dell'euro dollaro sotto questo punto di vista è un mercato che anche esso ha delle caratteristiche ben definite in termini di quello che è l'andamento medio sia nel corso della sessione e anche nel corso della settimana perché comunque è in questo grafico lo vedete qui vedete che è la media dei movimenti 2008-2020 e vedete che è un mercato che ad esempio tende a salire durante la sessione asiatica qui tutte le il diciamo il il time è GMT più uno quindi tutto il movimento è riportato al nostro fuso orario e quindi qui vedete che ad esempio l'euro dollaro è un mercato che tende a salire tende ad apprezzarsi durante la sessione asiatica e poi invece di contro è un mercato che tende ad avere un movimento statisticamente negativo nel corso soprattutto delle prime ore di apertura della sessione europea quindi a partire dalle 9 e poi invece di contro si ha si osserva diciamo ecco ancora un ulteriore cambiamento grosso modo dopo che si è avuta l'apertura di Wall Street quindi dopo le 15.30 per quello che magari è un mercato difficile anche per questo tipo perché è un mercato che raramente tende a mostrarsi lineare nel corso della sessione ma è un mercato che tende ad avere molto un andamento a swing nel corso della sessione quindi una parte asiatica in rialzo una soprattutto prima parte di sessione europea dove il mercato tende a distorcere a ribasso per poi invece invertire nuovamente la rotta dopo l'apertura di Wall Street quindi è chiaro che riuscire cioè conoscere identificare sapere che su questo mercato vige un bias di questo tipo chiaramente in ottica operativa fa tutta quanto la differenza del mondo poi anche qui stesso discorso non è che io in maniera indiscriminata tutti i giorni a mezzanotte vado ad aprire una posizione long per chiuderla alle 9 e mettermi short a partire dalle 9 in poi sicuramente andrò a cercarmi una qualche un qualche tipo come dicevo prima un qualche tipo di conferma sul grafico quindi non so un segnale di un indicatore la rottura di un minimo oppure di un massimo ok è chiaro che in questi contesti poi io vado a massimizzare cioè se riesco diciamo ad inserire come dire i filtri giusti e anche questo chiaramente lo vedremo sul corso io di fatto vado a massimizzare l'efficacia di questi bias questo è un pochino il concetto quindi allora Andrea ci chiede il DAX allora il DAX lo vedremo ma non ho ora una slide la vedremo però il DAX è un mercato che tratteremo in maniera approfondita durante il corso sia in termini diciamo di bias settimanali e sia in termini di bias anche in determinate fasce orarie perché il DAX è uno di quegli strumenti che ha un comportamento molto interessante sotto quel punto di vista e da dove si riescono a ricavare parecchie indicazioni poi Massimo ci chiede il comportamento si manifesta tutti i giorni allora tendenzialmente sì poi dall'analisi diciamo ecco del comportamento medio settimanale si vede che magari ecco non tutti i giorni sono propriamente uguali e anche lì si possono ricavare delle indicazioni anche dai diversi giorni della settimana ok poi Dejan ci chiede si potrebbe vedere conferma alle 2 e alle 5 di mattina beh magari ecco sicuramente aiuterebbe ad esempio giusto per darvi qualche input capire come sia sviluppata la sessione precedente quindi magari ecco in base a quello che è stato per dire il comportamento della sessione precedente quindi quello che è stato il movimento della sessione precedente potremmo capire se il mercato nella sessione successiva ha maggiori probabilità ad esempio di sfruttare appunto questa tendenza rialzista e quindi di continuare appunto con i rialzi nella sessione asiatica oppure ad esempio di crollare quindi registrare appunto dei ribassi a partire dalla dalla sessione europea ok questo è un pochino quello che quello che andiamo a fare quindi vado un pochino a illustrarvi nel dettaglio quella che sarà la struttura di questo corso perché chiaramente vedremo innanzitutto che cos'è un sistema bias vedremo i diversi tipi di bias quindi quali sono i principali le principali distorsioni che andiamo a cercare e soprattutto quali sono i mercati più adatti per mettere per questo tipo di strategie nella lezione due vedremo come validare che è correttamente un bias quindi capire se sostanzialmente quella che stiamo osservando è una distorsione temporanea oppure se questo bias presenta una certa robustezza e inizieremo ad approcciare ai modelli operativi nella lezione 3 e 4 invece vedremo quelli che sono i diversi tipi di approccio sfruttando appunto il vantaggio di questi bias parleremo appunto delle interconnessioni tra le strategie perché come vi ho detto prima l'operatività con i bias cioè i bias si possono integrare all'interno di qualsiasi strategia operativa e anche proprio la potenza e il bello insomma di questo tipo di approccio vedremo insomma come scegliere questa è una parte molto importante i criteri principali di scelta dell'orizzonte temporale per quanto riguarda la nostra strategia di trading quindi vedremo appunto quei bias che sono più adatti a strategie intraday piuttosto che strategie multiday vedremo i filtri operativi mentre invece poi nell'ultime nelle ultime due lezioni parleremo di money management che comunque rappresenta all'interno appunto della strategia di trading una parte rilevante quindi almeno diciamo ecco conoscere quelle che sono le principali appunto quantomeno gli erudimenti diciamo in termini di money management profili di rischio di operazione le principali tecniche almeno sotto questo punto di vista una diciamo anche un argomento che va trattato e poi l'ultima lezione che sarà dedicata invece alla composizione a come si compone un portafoglio quindi come si costruisce un portafoglio basato su diverse strategie vedremo anche degli esempi live appunto di posizioni aperte da strategie che utilizzano principalmente i bias di mercato e poi chiaramente ci sarà spazio per le vostre domande e risposte quindi ecco ci sarà chiaramente un tempo per tutti quelli che sono i vostri dubbi o domande poi nei prossimi giorni diciamo ecco riceverete una una mail diciamo ecco con le informazioni sul corso e comunque per qualsiasi tipo di domanda o richiesta potete scrivere a info chiocciola delta trading lab punto com questo è l'indirizzo da utilizzare per avere informazioni per quanto riguarda il corso allora Luke ci chiede se ci sarà modo di vedere la registrazione ma credo credo di sì però anche per questo discorso secondo me sì perché credo che la registrazione mi dicevano insomma che è partita in automatico però ecco magari non so se verrà inviata nei prossimi giorni magari ecco Luke se non dovessi riceverla magari ecco manda una mail a info chiocciola delta trading lab punto com e penso che ti gireranno il link per rivedere l'evento ok bene siamo in chiusura magari ecco altri due minuti abbiamo spazio per per ancora un altro paio di domande se ce ne sono ok ringrazio Dejan che ci dice che è stato utile questo questo evento ok se non ci sono altre domande siamo in chiusura io vi lascio comunque i miei contatti ai quali potete fare riferimento per qualsiasi chiedere qualsiasi informazione sui nostri servizi ecco magari ripeto se volete diciamo ecco seguirci e anche aiutarci a far crescere la nostra community vi invito ad iscrivervi al canale YouTube pagina Facebook e canale Telegram in maniera tale insomma ecco da anche rimanere sintonizzati su tutte le nostre iniziative incluso appunto questo questo corso insieme a Delta Trading Lab allora Massimo ci chiede il corso ha un costo se sì quanto allora per credo che tipicamente il corso possa essere anche il corso possa anche essere eseguito senza costi di sottoscrizione però per questo anche per domande di questo tipo io ti invito Massimo a mandare una mail chiaramente una mail senza impegno a info chiocciola delta trading lab punto com sono sicuro che ti daranno tutte quante le informazioni Lorenzo ci chiede se Trading Facile ha dei trading system basati sui bias assolutamente sì quindi diciamo ecco l'individuazione dei bias è ormai un lavoro che ho cominciato individuazione diciamo costruzione di strategie poi basate sui bias è un percorso che ho cominciato ormai insomma da quasi dieci anni fa ormai quindi sì assolutamente sì allora Pierre ci chiede la validazione verrà fatta con degli EA beh sicuramente io vi mostrerò degli statement vi mostrerò appunto di come chiaramente sono stati validati appunto questi setup anche insomma anche un po' un po' per farvi vedere diciamo ecco la bontà di questi bias ma un po' anche per deontologia ed etica professionale è chiaro che tutto il lavoro del quale vi parlerò è un lavoro che comunque è suffragato dai dati statistici quindi diciamo ecco ci saranno verranno mostrati chiaramente dei track record e insomma ecco inerenti alle strategie a come hanno performato a come sono state costruite come sono state validate a come hanno performato questo sicuramente ok Fabio ci dice non sono riuscito a seguire i motivi di lavoro spero nella registrazione anche qui dovreste riceverla via mail però se qualora non doveste ricevere la registrazione mandate una mail infochioccio la delta training lab punto com e sono sicuro che vi gireranno il link ok va bene siamo in chiusura io spero che questa questa presentazione sia stata interessante e di vostro gradimento quindi io ringrazio tutti coloro che sono stati con noi grazie Miriam buona serata anche a te approfitto diciamo ecco per rinnovarvi ecco l'invito a scrivere alla mail per avere maggiori informazioni su questo corso e che dire da parte mia io vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro buona serata e buon training a tutti grazie a tutti